La violenta aggressione avvenuta poco fa ai danni di un africano in piazza Gramsci. La vittima è stata pestata a sangue da un gruppo composto da due, tre persone. . È stato preso a calci e pugni e lasciato a terra esanime. Alcune persone presenti hanno allertato i soccorsi giunti dopo mezz'ora. . Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo. Pare che a scatenare l'aggressione sia stato il gesto dell'uomo di prendere in braccio un bimbo, e ciò avrebbe scatenato la violenza del branco. . Altri invece sostengono che fosse ubriaco e che avesse dato fastidio a qualcuno, che poi si sarebbe vendicato picchiandolo selvaggiamente. . Si tratta comunque solo di un'ipotesi ancora da confermare. Ciò che è certo è che dopo il pestaggio, un gruppo di ragazzi presenti in piazza e invece di aiutare il ferito erano vicini a lui a ridere insultandolo e apostrofandolo come nire e merd. . Chiuse virgolette, punto sul posto In questo momento i carabinieri stanno raccogliendo le informazioni per ricostruire la dinamica dei fatti. . .